buongiorno amici di LifeGate benvenuti oggi parliamo di mobilità parliamo di tecnologia ibrida in particolare parliamo di mild hybrid lo scalino d'ingresso a questa tecnologia lo facciamo con Ford Puma EcoBoost Hybrid un crossover compatto efficiente a un motore piccolo solo 1000 cc tre cilindri un generatore motore elettrico che ricarica la batteria al litio ma che aiuta anche il motore a benzina ad essere più efficiente a ridurre i suoi consumi l'abbiamo provata ve la racconteremo su lifegate.it nella sezione mobilità ma nel frattempo ve la racconteremo anche qui state con noi per vedere com'è andata la nostra prova per la racconteremo Grazie a tutti. Grazie a tutti.